Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Questa è una frase celebre, importante di Giuseppe Saramago, che ci porta dentro un'idea dinamica della memoria. La memoria cioè trasformativa, una memoria capace di costruire nuove responsabilità sociali e quindi doveri di cittadinanza. E' una frase che racchiude bene il senso di ciò che è accaduto qualche giorno addietro, per la precisione il 13 gennaio, in questa grande iniziativa popolare che suggella la fine di un percorso importante di resistenza, con la restituzione ai cittadini di Rosarno, ma tutti i calabresi, della Casa del Popolo dedicata a Giuseppe Ballarioti, il segretario del Partito Comunista, ucciso nel 1980. Dopo un cammino significativo, una rete di cittadini e di cittadine, riunitesi in una struttura associativa, è riuscita a comperare questo bene, che faceva parte delle vecchie proprietà in Calabria, del Partito Comunista, riuscendo in questa maniera a salvaguardare non soltanto la memoria politica di Ballarioti, ma soprattutto il suo impegno, il suo esempio. La Casa del Popolo di Rosarno si candida ad essere un grande punto di riferimento per tutte le strategie di resistenza, di lotta culturale al potere dell'andrangheta e quindi a tutte quelle dinamiche perverse che questa parola, purtroppo, ha dimostrato nei decenni di saper attivare a queste latitudini. Ma non c'è solo questa memoria capace di costruire nuove responsabilità, la Casa del Popolo Giuseppe Ballarioti. I giorni passati ci hanno restituito un altro importante momento di resistenza perché l'imprenditore vibonese Callipo è stato nuovamente vittima, le sue aziende, nello specifico di forme di intimidazione. L'imprenditore vibonese noto con un marchio imprenditoriale che è da grande dignità, da grande visibilità alla nostra regione, ancora una volta ha regito con grande fermezza, con grande dignità, con grande senso di responsabilità dinanzi all'aggressione criminale dicendo che l'attività economica andrà avanti senza paure, sempre a viso aperto e a testa alta. Callipo, Valarioti, così come tante altre espressioni che nel territorio calabrese ormai segnano da anni impegni, testimonianze importanti, dimostrano oggi la voglia di riscatto della nostra terra, la voglia di riscatto della nostra gente. E noi chiudiamo quest'incontro in omaggio alla memoria, quindi in omaggio a ciò con cui abbiamo aperto la puntata odierna, perché siamo a gennaio, e il 18 di gennaio del 2020, esattamente quattro anni or sono, tanti cittadini, tante cittadine, di questa terra hanno inteso manifestare con la loro presenza, vicinanza alle inchieste giudiziarie della procura di Catanzaro, all'epoca guidata da Nicola Gratteri. Siamo qualche settimana dopo l'inchiesta rinascita a Scotto, e quindi il momento probabilmente più alto dell'offensiva giudiziaria dello Stato nel distretto di Catanzaro contro le cosche d'Indrangheta. Ecco, tutti quei cittadini, tutta quella rabbia, tutto quel desiderio di mettere in discussione l'impunità, questo diritto finto, però affermatosi negli anni, dei padroni, non solo delle cosche, ma di quella politica che finiva o ha finito, o che continua ancora ad andare a braccetto col potere criminale, veniva processata nelle piazze attraverso il sostegno forte all'azione della magistratura. Chiudiamo quindi con che cosa? Con un invito, ecco, facciamo nostre ancora una volta le parole di Giuseppe Borrello, il segretario regionale di Libera, che nel commentare le intimidazioni a Callipo ha chiamato tutti noi a nuove forme di impegno in grado, in questa maniera, di mettere in discussione, fino in fondo, la struttura del potere mafioso. C'è già un'altra Calabria, tocca a noi completare, fino in fondo, il processo di cambiamento e di trasformazione sociale nel segno di Valarioti, attraverso il sogno di Valarioti e di tutti quei caduti che hanno scelto di vivere la vita a testa alta. Grazie a tutti.